Io, quello che posso dire, sono molto contento che questo libro porti anche a certe considerazioni e riflessioni. Sono sempre d'accordo con Oscar Wilde che si parli bene o che si parli male. L'importante è che se ne parli, perché c'era proprio un vuoto, un vuoto storico, un vuoto architettonico, un vuoto urbanistico e un vuoto culturale. Mettiamo già i punti su lei. Io non sono storico e non sono architetto. Io faccio semplicemente l'attore. Cosa può centrare un misero attore? Io sono diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, che è la Scuola Nazionale di Cinema, diretta da Giancarlo Gennini. Qual è il minimo comune denominatore tra la mia professione e questo libro? Che l'attore racconta storie e in questo libro ci sono un insieme di storie che convogliono verso la storia di Rossoni e Tresigallo. E quando è che ho iniziato? In un'età in cui non potevo sapere delle varie ideologie che avevano intaccato positivamente o negativamente quel periodo storico. Ho iniziato a 9-10 anni a fare le mie prime ricerche. Perché sentivo, forse ero più sensibile dei miei amici, sentivo che in quelle case, in quelle cascine abbandonate, in quell'archeologia industriale di cappannoni, di industrie abbandonate, sentivo che lì c'era stato qualcuno, c'era stato qualcosa, le famiglie avevano vissuto, in quelle case erano nate, erano morte, avevano festeggiato i Natali, i compleanni. Io rimanevo sempre stupito. Andavo in campagna a Gerardi, vicino Tresigallo, e chiedevo a mio nonno, ma lì chi ci abitava? E lì c'era la famiglia, tra i dettagli. Ma chi fino ha fatto? Dopo la guerra è andata via, è andata a Genova, a Novara, a Milano per lavorare. Bello. Ma lì chi ci abitava? E mi dicevano piano piano tutte le famiglie della contea, del territorio, fino ad arrivare a Tresigallo, dove i miei nonni, i miei parenti, i miei vecchi del paese mi dicevano, vedi quella fabbrica lì? Prima non c'era, lì c'era un campo di grano, l'ha fatta Rossoni. Io avevo dieci anni. Vedi quella piazza lì? Piazza della Repubblica, all'epoca piazza della rivoluzione fascista. Bella, sì sì, molto bella, avevo dieci anni. E non c'era mica. Lì c'era un campo di canapa, l'ha fatta Rossoni. Quindi immaginavo questo personaggio grosso, rosso, Rossoni, che dall'alto metteva le casupole, le fabbriche. E poi io già dieci anni giravo la provincia. Facevo nuoto a Copparo, mio padre lavorava a Ferrara, i miei nonni erano di Iolanda e di Savoia. E io quando tornavo a Tresigallo vedevo che era diverso. C'era un'architettura diversa, c'era un pensiero, un progetto diverso. Rispetto a tutta la provincia ferrarese, a me Tresigallo piaceva. L'architettura era bella. Io avevo dieci anni, non potevo sapere che fosse architettura razionalista, ideata, fondata, basata durante il fascismo. Era qualcosa per me di molto bello. E quando sentivo raccontare queste testimonianze, questi racconti, forse nostalgici, forse troppo emotivi, ma sicuramente era la loro storia, diciamo al 90%, perché magari i ricordi sono sempre dolci e forse anche forvianti, ma c'è una coerenza sulle oltre 20 testimonianze che ho raccolto, c'era l'idea di un passaggio da una civiltà contadina nella zona in cui c'era il più alto tasso di disoccupazione in Italia ad una civiltà, diciamo, operaia. Questo cosa significa? Che veramente i abbraccianti indebitati sono diventati operaie stipendiati. Veramente da contadini che abitavano nella cascina di proprietà del proprietario terriero hanno avuto, da Rossoni, una casa nuova in alcune famiglie anche gratuitamente. Hanno avuto un lavoro nuovo. All'epoca avere un lavoro nuovo, signori siamo negli anni 30, significava, per il mio testimone che piangeva quando mi raccontava queste cose, avere una casacca nuova. All'epoca c'era un vestito, tutto l'anno, e se era sporco si girava e si utilizzava sempre quello. Significava avere una casacca nuova, avere un teatro nuovo. Voi dovete venire a Tresigallo, potete vedere anche le foto, cos'era prima? Era una via con 700 anime, più qualche porcile, qualche gallina e qualche coniglio. Non c'era nulla. Senza questa rifondazione sarebbe scomparso per sempre, come molti altri paesi sono scomparsi nel dopoguerra, avere un teatro nuovo e avere il cugino di Mascagni, che viene a portare un'opera lirica, con l'Inna Pagliughi, la Pavarotti degli anni 30, e quei ragazzini che fino a un mese prima stavano con i genitori in campagna ad aiutarli nel taglio della canapa e quindi tornavano a casa con i piedi insanguinanti perché la canapa taglia, hanno potuto vedere opere liriche che andavano a New York, Los Angeles, Roma e poi passavano per Tresigallo. Una rivoluzione antropologica, culturale, economica, lavorativa, impressionante, anche dal punto di vista del lessico. Tutti i miei testimoni hanno parlato in italiano, io non ho tradotto il dialetto, perché da 700 persone diventano 9000 in tre anni e quindi il barbiere o l'assistente barbiere Tresigallese, che parlava in ferrarese perfetto, ha dovuto alfabetizzarsi, educarsi, parlare l'italiano con gli imprenditori di Genova, di Milano, di Torino, di Novara, eccetera. Quindi c'è stata una vera e propria rivoluzione nell'esistenza di queste persone. Tutto bello. Quando mi raccontavano queste storie vicino al bar centrale in estate, dicevo ma c'è un libro dove io posso trovare tutto questo? E queste persone, no, no, non c'è niente. Qualche saggio storico di 3-4 pagine, ma più sul personaggio Rossoni. Cavolo, ma scusate la domanda, ma quando voi non ci sarete più questa storia che fine fa? Eh, caro mio, questa storia scompariva per sempre. Mi era così tanto dispiaciuto che la storia dei miei nonni e della mia gente scomparisse per sempre che ho iniziato a raccogliere le testimonianze. A 14 anni ho chiesto a mio padre, che è presente là dietro, una telecamerina. Ho iniziato a bussare le porte, a intervistarli prima con dei colloqui, poi una volta che la memoria era riscaldata ci sono tornato, li ho intervistati per delle ore con la telecamera, ho trascritto tutti sui fogli, sono ritornato da loro, vuole aggiungere, vuole togliere qualcosa e tutte queste testimonianze erano oltre 100 pagine. Ho dovuto tutte risistemarle con un ordine cronologico, cioè prima di Rossoni come era la civiltà contadina, il lavoro della canapa, il lavoro in campagna e il rapporto con il curato del paese, con la banda musicale, con la scuola elementare, fino ad arrivare alla rifondazione di Rossoni. Quindi ho cercato di dare un ordine cronologico alla storia. Però sapevo che se volevo arrivare a 26 anni, alla Treccani con questi signori, dovevo diciamo così, attuare una cornice macrosociale a quel contesto microsociale. Una volta venuta a Roma, a 19 anni, per studiare al centro sperimentale, sono subito andata all'archivio centrale dello Stato a fare ricerca. Non c'è niente. Perché Tresigalo è l'unica, per adesso, città di fondazione che non è stata voluta da una legge di Stato o dal fascismo. Non c'è stato un bando nazionale per gli architetti, ma fu voluta interamente da una visione del mondo Rossoni. Mi sarebbe tanto piaciuto mettere la carta di Tresigalo, ma non esiste. Potevamo farla nuova, ma visto che con l'editore abbiamo deciso di mettere tutta roba dal 35 al 40, non l'abbiamo potuta mettere. L'unico carteggio disponibile è all'archivio di Formignana, perché Tresigalo era frazione di Formignana. Dal punto di vista architettonico-urbanistico è meravigliosa, stupenda. Venite a vederla. In che senso? Non è proprio un cimiteretto o un paesucolo. È stata la più grande città di fondazione realizzata in Italia in termini di costruito, forse dopo Carbonia. È l'unica città di fondazione, fra le oltre 150, riconosciuta città d'arte? Allora c'è qualche paradosso. Una piccola città di provincia che non ha nessun valore che è così riconosciuta dall'Emilia Romagna, riconosciuta anche dall'Italia. Enzo Nenci si è andata a Palazzo Tè, a Mantua, a una mostra praticamente permanente. Non parliamo sicuramente di una città con i maggiori architetti dell'epoca, no signore, ma sta lì la sua valenza. Rossoni voleva probabilmente fare un apprendistato a questi giovani scultori, giovani ingegneri, giovani pittori per, diciamo così, educarli nella loro professione per tempi migliori. Tutte queste persone hanno avuto comunque un successo provinciale, regionale, nazionale o mondiale, come ad esempio Porcinai, grazie anche in minima parte a questi lavori. In più la bellezza del paese se venite, o dovete venire, insomma questa è la cosa, dovete venire a una chiusura, cioè venite perché è città d'arte, è formato da chiusure prospettiche, cioè non c'è un viale in cui l'occhio termini con un, anche il cimitero, c'è anche il cimitero, con un edificio. Quindi l'insieme di queste chiusure prospettiche hanno creato questa complessità architettonico-urbanistica e quindi l'idea di una città chiusa. Questo è il bello perché appena fai un passo al di là della cerniera industriale ti trovi immediatamente nella campagna, quindi una armonizzazione perfetta tra la campagna e la città. Tutte queste cose sì, possono essere legate anche al mio entusiasmo di 26enne, però non ho messo una riga del mio cervello in questo libro, proprio perché non ho le competenze storiche architettoniche, proprio perché mio fratello è uno storico di professione e quindi ho seguito a lettera le frasi che mi ha detto questa non metterla perché è un tuo parere, quindi togli di qua, togli di là, l'abbiamo un po' smussata. Io credo personalmente di non aver messo una mia interpretazione storica, ho fatto semplicemente un mosaico, ho messo assieme le tasselli, le testimonianze, i documenti pochi che ho trovato all'archivio centrale di Formignana e di Ferrara, i pochi articoli sul Corriere Padano di Ferrara e le poche riviste che parlano di questo esperimento e li ho messi assieme tassello per tassello come se fosse un grande mosaico e ho fatto molta fatica perché veramente non c'era nulla, nulla e quando ho iniziato questo lavoro a 14 anni mi prendevano per pazzo, tra cui mia madre, diceva nemmeno il comune te lo stamperà perché a chi vuoi che interessi la storia di Rossone e Tresigallo. Poi, e sto concludendo, nel 2010 esce un libro che iniziava con la prefazione circa così, diceva questo è il libro per cui sono nato, fin da bambino sapevo che dovevo raccontare questa storia, che è Canale Mussolini di Antonio Pennacchi, il mio autore preferito. E quando, no 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 no, no no no, e quando l'ho letto io mi sono commosso perché ho detto cavolo allora c'è tra virgolette un altro matto come me che da bambino sapeva che doveva raccontare questa storia e quindi da lì ho detto ora scrivi in qualche modo a Pennacchi, rompo le scatole un grande storico, rompo le scatole un grande documentarista, rompo le scatole all'istituto di storia contemporanea di Ferrara, oggi c'è la Presidente Anna Maria Quarzi, la Pendragon, casa editrice nazionale, ci ha creduto, è patrocinato dall'istituto Parri, quindi sicuramente ci saranno delle mancanze perché non è la mia professione, però come attore sentivo che questa storia andava raccontata e io ho cercato in tutti i modi di raccontarla. Grazie. 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 Grazie.